buon poveriggio ragazzi e bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi io sono dario del torderion e oggi siamo qui uniti per fare le pagelle di napoli como 3 a 1 allora ragazzi prima di fare le pagelle innanzitutto vi ricordo che c'è il post partita qui in alto che ho caricato ieri sera se volete recuperare lo trovate nelle schede voglio iniziare questo video non subito con le pagelle ma voglio mostrarvi delle immagini delle statistiche della partita di ieri sera perché ci sono delle immagini che secondo me vanno evidenziate e vanno mostrate partiamo con la prima immagine state vedendo in questo momento le statistiche offensive della partita nel primo tempo e come potete vedere nel primo tempo dal punto di vista offensivo ha fatto meglio il como possesso palla 58 per cento contro il 42 del napoli tiri totali fatti più dal como che ne ha fatti 8 mentre il napoli soltanto 3 una parata a testa e poi ovviamente sui passaggi meglio al como perché avendo più possesso palla ha fatto anche più passaggi adesso vi mostro le stesse statistiche ma nel secondo tempo e come potete vedere la storia cambia non cambia il possesso palla che addirittura va a peggiorare lo abbiamo detto anche nel pre partita è come una squadra che vuole avere il pallone tra i piedi e vuole dominare il possesso il napoli però dal punto di vista della creazione delle occasioni e dei rispetti gol decisamente meglio perché aveva fatto nel primo tempo un xg di 0.13 mentre nel secondo fa un xg di 1.78 rispetto al como fa anche più tiri ci sono soltanto parate del portiere del como e poi vabbè dal punto di vista dei passaggi bene o male è lì quindi dal punto di vista offensivo il napoli nel secondo tempo è stato migliore del como adesso vi faccio vedere le statistiche difensive una parte perché non vi faccio vedere tutte le statistiche vi faccio vedere quelle che secondo me sono più importanti statistiche difensive primo tempo la cosa che balza all'occhio ragazzi sono i contrasti il como è stato decisamente superiore rispetto al napoli nei contrasti il 69 per cento dei contrasti li ha vinti il como con soltanto il 31 per cento per il napoli 5 palle perse dal napoli nel primo tempo mentre il como 0 e guardate i contrasti 8 vinti su 22 per il napoli mentre il comune ha vinti 14 sui duelli aeri ci hanno surclassato noi ne abbiamo vinto solo uno mentre il comune ha 26 su 7 quindi nel primo tempo le statistiche difensive sono state nettamente inferiori rispetto al como adesso vediamo le stesse statistiche ma nel secondo tempo e come potete ben vedere anche qui una bella differenza vediamo il napoli che vince la maggior parte dei duelli siamo passati dal 31 per cento di prima al 56 per cento ci sono state bene o male le stesse palle perse dal napoli la differenza però qual è è che il como ha perso ben nove palle nel secondo tempo sui contrasti a terra il napoli ha avuto la meglio 22 vinti su 37 sui duelli aeri c'è equilibrio 6 per il como e poi anche dal punto di vista dei dribbling si sono fatti valere quindi nel primo tempo il como ha avuto la meglio sia offensivamente che difensivamente nel secondo tempo c'è stato il capovolgimento perché è successo questo la risposta secondo me la ritroviamo nel baricentro negli schemi dei baricentri che adesso voi starete vedendo questo è il baricentro del napoli nel primo tempo come potete vedere il baricentro si trova praticamente al di sotto del cerchio di centrocampo con un'altezza di 47 metri e una lunghezza di circa 25 metri adesso invece vi metto il baricentro del secondo tempo la lunghezza bene o male quella lì il baricentro però si è alzato da 47 a 51 e infatti il baricentro bene o male si trova sul cerchio di centrocampo quindi vi ho fatto vedere queste immagini perché secondo me è in queste foto che è racchiusa la chiave della partita per me il napoli nel primo tempo ha avuto un atteggiamento sbagliato nella fase di non possesso cioè quando aveva palla il como perché il napoli nel primo tempo ha adottato il blocco compatto come ormai fa da da tempo è quello ok però qual è il problema hai adottato un blocco basso ti sei schiacciato nella tua area di rigore con questo 5 3 2 con politano che faceva il quinto di difesa e andava a pressare e andava a tener buono fadera e non moreno ovvero il terzino del como si è andato a schiacciare su fadera quindi avevi questo blocco compatto sì ma basso e aggiungiamoci poi che il pressing nel primo tempo non voglio dire inesistente ma molto 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 passivo questo atteggiamento cosa ha portato ha portato al como che guadagna campo arriva facilmente ha rilostro della tua area di rigore non riesce a perforare dentro la rigore quindi va con i tiri da fuori problema però un altro problema che si è aggiunto a quello che vi ho detto prima è che sui tiri da fuori sei stato poco aggressivo e quindi loro avevano lo spazio e il tempo per sistemarsela bene e tu al quarto tiro da fuori hai preso gol quindi nel primo tempo secondo me c'è stato un atteggiamento sbagliato nella fase di non possesso blocco basso compatto e pressing quasi inesistente devo però chiedere scusa al mister perché io ieri nel post partita ho sbagliato dicendo che io avevo l'impressione che fosse stato un'indicazione di conte il mettersi così bassi e aspettarli e invece non è così perché caprile nel post partita in conferenza ha detto questo ci siamo abbassati troppo e non è stata un'idea del mister quindi questo atteggiamento così passivo probabilmente c'è stato perché il napoli vedendo che si era sbloccata subito la partita avrà pensato questa la vinciamo a mani basse quindi hanno hanno un po calato di attenzione nel secondo tempo vedendo anche le statistiche c'è stato il cambiamento di atteggiamento nella fase di non possesso il napoli è sempre rimasto col blocco compatto quello è sempre rimasto però hai alzato il baricentro e in fase di pressing andavi a dar fastidio sul fraseggio del como per me là c'è stata la chiave in positivo per il napoli infatti poi nel secondo tempo ragazzi il como quante occasioni ha avuto pochissime è arrivata poco e poche volte al tiro perché perché c'è stato un atteggiamento diverso da parte del napoli in fase di non possesso e conte lo ha chiarito anche nel post nella conferenza post partita dicendo che appunto nel primo tempo non si erano vinti contrasti i duelli e l'aveva fatto notare ai ragazzi nell'intervallo quindi volevo fare questo preambolo perché era importante ecco la partita si è vinta e c'è stato un cambiamento nel secondo tempo perché secondo me è cambiato l'atteggiamento in meglio sul sulla fase di non possesso ultima premessa prima di cominciare mi raccomando scrivetemi nei commenti le vostre pagelle perché me ne leggo molto volentieri iscrivetevi mi raccomando ragazzi perché è totalmente gratis attivate la campanella è un bel like preventivo che non fa mai male detto questo cominciamo eccoci qua cominciamo subito e andiamo da caprile che si prende ancora una volta un bel 6 allora per me non ha colpe sul gol perché lo ha detto anche lui in conferenza stampa la palla è passata sotto le gambe di buongiorno evidentemente lui l'ha vista troppo tardi quindi per me non ha colpe poi per il resto ripeto il com ha fatto tanti tiri da fuori aria la maggior parte tiri che sono andati fuori un palo però a livello di tiri in porta c'è stato solo il gol di il gol di strefezza che non era prendibile quindi ha fatto veramente poco nulla ora qui voglio aprire una piccola parentesi ieri sera ho ascoltato chiariello ho ascoltato campagna sport c'è una cosa che ha detto chiariello che mi piace e che su cui sono d'accordo è praticamente ha detto che noi non sappiamo che portiere sia caprile in che senso nel senso che il napoli sta avendo una fase difensiva talmente efficace che il portiere non sta avendo possibilità di fare parate il napoli non sta facendo tirare in porta gli avversari di conseguenza il portiere non può fare le parate quindi noi non sappiamo effettivamente se caprile un portiere di livello forte che ha delle pecche perché gli avversari non stanno mai tirando in porta meglio così meglio che non ti non importa preferisco sinceramente questo comunque 6 poi di lorenzo 6 e mezzo allora di lorenzo partecipa al gol dell'1 a 0 il gol dell'1 a 0 ragazzi non ho fatto lo screenshot però voglio dire una cosa di questo napoli di conte mi piace molto questo fatto che il napoli accelera e rallenta l'azione a suo piacimento se vi rivedete il gol dell'1 a 0 vedete che i primi 11 bar 12 secondi dell'azione il napoli fa questi passaggi lenti ritmi molto blandi raccamani che sale pian pianino palla al piede poi tutto un tratto nel giro di 10 secondi tre passaggi e si è arrivato nell'area di rigolo del como come tomini che poi segna questo è il bello di del napoli rallente accelera quando vuole a suo piacimento e ovviamente poi il primo gol vediamo anche ecco lo stile di lukaku c'è lukaku fa quello spalle alla porta fisicamente regge con il duello con il difensore di turno che questa diciamo nella partita di ieri è stato kenf vince il duello col difensore vede il compagno che fa il movimento opposto quindi attacca la rigore e gli fa il passaggio questo poi è successo anche nel 3 a 1 quindi ieri sera abbiamo visto proprio le azioni classiche di lukaku quindi di lorenzo partecipa al gol dell'1 a 0 fa bene la doppia fase sovrapposizioni come al solito facciamo una partita dove comunque si è comportato abbastanza bene l'unica cosa qualche sbavatura sui passaggi perché vedo qui ha fatto bene 41 passaggi su 52 quindi una media di 70 una percentuale del 79 per cento non proprio altissima andiamo a racmani che prende un bel 6 e mezzo racmani ha tenuto bene su cutrone nonché cutrone abbia fatto tutti questi grandi attacchi però quando quando c'era bisogno lo ha chiuso abbastanza bene male sui duelli aerei perché ne ha vinti 0 su 3 una piccola sbavatura anche lui in impostazione come sempre una garanzia e anche lui partecipa al gol dell'1 a 0 buongiorno 6 allora perché do il 6 a buongiorno perché secondo me sul gol dell'1 a 1 di strefezza e anche sul palo di paz è stato poco aggressivo sul pressing qua siamo sul palo di paz abbiamo quindi paz qui che si sta preparando al tiro da fuori come potete vedere abbiamo buongiorno qui e anche mc tomini che sono poco non so poco aggressivi un po blandi nel pressare pazze vedete c'è questa distanza tra i giocatori del napoli e pazze che secondo me è tale da permettere al calciatore del comodo di tirare da fuori e poi sul gol di strefezza stessa cosa abbiamo qui strefezza che sta per calciare e ancora una volta buongiorno sopra e qui mc tomini fanno un pressing abbastanza blando e strefezza può andare al tiro senza troppa interferenza ecco non hanno dato fastidio ecco hanno hanno messo l'avversario nelle condizioni di calciare nel migliore dei modi e secondo me potevano fare qualcosa di più a poi piccola parentesi come potete vedere qui siamo in una situazione di difesa 5 col blocco basso e con tutti i giocatori nella nostra linea di rigore infatti come potete vedere qua sotto ci sta politano che fa il quinto della difesa 5 qui c'è politano di lorenzo racmani buongiorno qui e olivera quindi fa il quinto della difesa 5 e sta proprio su fadera e non su moreno che sta qui poi olivera 7 ragazzi a me la partita di olivera ieri sera è piaciuta tantissimo difensivamente secondo me è stato il migliore del napoli e poi nel secondo tempo comunque lui è il giocatore che innesca il rigore praticamente olivera va a fare questo pressing alto su sergi roberto quindi abbiamo qui olivera che pressa alto sergi roberto ruba palla intanto la passa a lukaku e nel mentre olivera si butta dentro l'area sergi roberto lo segue e poi fa fallo dentro l'area e quindi calcio di rigore quindi bravo olivera a pressare alto sergi roberto e a rubare palla bravo poi a scaricarla su lukaku a buttarsi dentro e quindi a indurre poi sergi roberto a fare rigore rispetto poi alle ultime partite l'ho visto anche più propositivo in avanti ha spinto parecchio ha sovrapposto sulla sinistra aiutando quindi anche quara è stato anche più propositivo di di lorenzo infatti lo vedevamo spesso anche nell'area di rigore avversaria e poi ragazzi vabbè lo vodka lo vodka sette e mezzo gli do la palma di migliore in campo e che dire allora lo vodka nel primo tempo ha fatto una chiusura provvidenziale su un passaggio del comodo dentro l'area di rigore nostra quindi ha fatto un salvataggio che poteva essere molto pericoloso ma ragazzi nel secondo tempo lo vodka ha preso la cattedra e ci è salito sopra cioè io vi voglio voglio citare i dati contrasti a terra 27 su 7 passaggi completati 35 su 39 palle lunghe 4 su 5 intercettazioni salvataggi tegono in scivolata vinti veramente dal punto di vista difensivo lo vodka ieri è stato perfetto e il plus sapete qual è è il 3 a 1 circola questo frame in occasione del 3 a 1 dove si vede lo vodka gira la testa verso l'area di rigore avversaria e già vede lukaku che si sta posizionando per poi ripartire con un'eventuale ripartenza quindi lo vodka ha già anticipato quello che quello che sarebbe successo infatti che fa vede lukaku che si sta posizionando quindi si abbassa riceve palla e subito immediata verticalizzazione per lukaku che poi farà il movimento per passarla a neres quindi lo vodka sul 3 a 1 ha visto calcio dove altri non osano nemmeno guardare dare che citazione che vi faccio quindi lo vodka 7 e mezzo anghissa 6 e mezzo allora anghissani al primo tempo si è un po rivisto l'anghissa nelle primissime partite però nel secondo anche lui sale in cattedra un po tutti nel secondo tempo migliorano perché c'è stato l'atteggiamento in fasi non possesso che è migliorato recupera palloni intercetta palloni anche lui difensivamente parlando specialmente nel secondo tempo molto molto bene però voglio dire una cosa ma il fallo su anghissa no il bar come dice come ha detto conte ieri era spento no perché in genere questi interventi vengono almeno rivisti al bar pestone sul calciatore palla che era già passata niente ma questo non è niente questo non è niente e lo ribadisco io mi lamento dell'arbitro adesso che stiamo vincendo perché secondo me è giusto dirlo a meno sulle cose palesi non le cose dubbie posso anche accettare che non venga fischiato nulla ma sulle cose palesi non transigo comunque anghissà 6 e mezzo mcdomeney 7 vabbè fa il gol così tatà pronti via al 26esimo secondo lo vedo ancora un po avulso nel gioco infatti se voi andate a vedere i tocchi effettuati mcdomeney è stato il quarto peggior calciatore per tocchi effettuati 35 non sono tantissimi però quando tocca palla è pericoloso mi è piaciuto nella doppia fase ovviamente solito fatto quando è in fase di possesso il napoli mcdomeney si buttano avanti si va quasi a mettere sulla linea di lucapo in fase di possesso il napoli sembra un 424 in fase di non possesso comunque ha dato anche il suo contributo mi ricordo dei contrasti vinti mi ricordo delle intercettazioni ha dato il suo contributo sia in possesso che non in possesso e ha fatto anche il gol e mi va che mi vale un bel più 3 al fantacalcio andiamo poi a politano che si prende 6 allora politano offensivamente ieri poco o nulla anche lui pochissimi tocchi effettuati secondo peggior calciatore per tocchi effettuati ne ha fatti solo 29 non ha creato tanti pericoli in avanti però come sempre tanto lavoro difensivo tanto sacrificio voglio premiare comunque il suo solito sacrificio quindi gli do un 6 non vado oltre perché offensivamente non ha fatto niente di che do un 6 anche a Kvara non ha fatto una partita bella c'è stata un'occasione nel secondo tempo dove lui è andato al tiro però voglio dire una cosa su quel tiro perché secondo me lì è stato un po egoista e adesso vi spiego il perché qua potete vedere Kvara dentro l'area però guardate c'è Lukaku qui che è solo cioè qua se avessi alzato la testa e se avessi fatto un passaggio elementare facilissimo Lukaku qui era a porta cioè era tu per tu con Audero e potevamo andare sul 3 a 1 qui Kvara mi è stato un po troppo egoista comunque stavamo sul 2 a 1 quindi la partita non era in cassaforte e potevamo magari chiuderla prima se Kvara avesse visto Lukaku totalmente solo e poi purtroppo devo sempre ripetere le stesse cose perché Kvara ormai è colui che viene maltrattato anche ieri un rigore palese non fischiato a Kvara e sinceramente non comprendo quelli che dicono che è una simulazione perché ragazzi Kvara stava per calciare si vede proprio che stava per calciare e da dietro due mani che lo spingono a terra non è assolutamente una simulazione lui non si butta a terra lui stava tirando che motivo aveva di buttarsi a terra è quello un rigore palese solare io qui lo ribadisco i rigori palesi le situazioni oggettive palesi me le devi dare e non me ne frega niente se tu hai mi dato un rigore due minuti prima non me ne frega niente che sto vincendo se è una cosa è palese oggettiva me la devi dare ragazzi in due partite a distanza di una settimana al Napoli non sono stati concessi due rigori cioè il Napoli nelle ultime due partite doveva calciarne tre di rigori ma magari gli sbagliava un gli sbagliava due ti poteva sbagliare tutte e tre ma intanto doveva calciare tre rigori contro il Monza il falo su Di Lorenzo sulla linea manco visto il VAR quello su Politano è dubbio e mi va bene che non l'hai dato il rigore sul Cavara ieri e la rigore tutta la vita era palese e tu me lo dovevi dare poi magari lo sbagliava Lukaku e rim si rimaneva sul 2 a 1 perché mi pare che stavamo sul 2 a 1 me lo devi dare hai dato il rigore su Olivera che era sacrosanto bene devi dare anche questo perché sta causando e lo ribadisco il Napoli sta subendo torti arbitrali eh ma tu sei provinciale non devi dire così no lo dico lo dico sulle situazioni palesi oggettive va detto ma anche sul fallo su Anghissà che ho detto prima cioè com'è possibile che queste cose non vengano manco viste al VAR è qui che alimentate il mio complottismo perché io non so complottista perché voglio essere ma perché voi me lo portate mi portate a esserlo io voglio ricordare che il famoso audio del VAR di Inter Juve dell'anno dei 91 punti magicamente è sparito e ma se non c'era niente di compromettente perché far sparire un audio VAR siete voi che con le vostre azioni losche mi inducete a essere complottista e c'è solo un modo per per non farmi essere complottista a meno a me o mi fate sentire l'audio del VAR dell'arbitro che mi dice proprio non è rigore e allora la io dico tu arbitro sei incapace vai all'arbitrare in serie D oppure mi dà il challenge quindi mi dà la possibilità di dire no qua per me c'è rigore andatelo a rivedere solo così mi togliete il dubbio ma io fino a quando non vedrò almeno una di queste due cose continuerò a fare il complottista e se mi viene detto se vi lamentate che sono complottista non me l'ho fatto proprio lo dico proprio in napoletano perché io su ste cose pretendo che ci sia uniformità perché poi il fallo su anghissato che lui spinge a due mani il giocatore nel Como quello è stato fischiato mentre il fallo su Kvara nell'area di rigore no non c'è uniformità non c'è trattamento paritario da parte degli arbitri quindi io finché non vedo ho il challenge o gli audio VAR pubblici rimarrò complottista perché voi mi inducete a esserlo andiamo avanti e arriviamo a Lukaku che anche lui migliore in campo perché comunque raga se fa due assist e fa un gol cioè lo dobbiamo mettere tra i migliori in campo condivide la palma insieme allo vodka allora lui è stato il peggior calciatore per tocchi effettuati 23 e apro una piccola parentesi è un caso che i quattro peggiori calciatori del napoli per tocchi siano proprio quelli offensivi perché se ci fate caso sono i tre attaccanti più mechtomini ditemi la vostra nei commenti è un caso che i quattro peggiori giocatori per tocchi effettuati siano proprio i giocatori offensivi detto questo pochi tocchi proprio perché ha fatto pochi tocchi si è visto poco però quelle poche volte che si è visto ragazzi due assist e un gol allora il gol del 1 a 0 ve l'ho detto prima spalla la porta riceve palla vince il duello fisico con kemp vede mechtomini che si inserisce in aria e gli dà la palla la stessa cosa succede sul 3 a 1 allora che succede nel 3 a 1 vi ho detto prima il fatto di lobotka che anticipa l'azione in ripartenza quindi verticalizzazione immediata in avanti lukaku nel frattempo si abbassa spalla la porta vince il duello fisico con kemp che è questo qui si riesce a girare e nel mentre mechtomini accenna un movimento verso la palla verso diciamo la porta ma il movimento vero e proprio verso la porta lo fa neres che si butta in mezzo a sergi roberto e dossena con i con tempi di inserimento perfetti lukaku vede questo inserimento lo lancia in verticale verso il portiere neres a tu per tu con audero riesce a fare gol quindi il gol del 3 a 1 è proprio il manifesto di come lukaku gioca quindi 7 e mezzo palmani migliore in campo assieme allo botka passiamo alla panchina io ragazzi alla panchina diciamo do voto soltanto a neres che si prende 7 perché in 10 minuti fa il gol del 3 a 1 sull'assist di lukaku ha rischiato anche di fare la doppietta perché su un angolo difensivo fa un certo punto questo costo costo sulla fascia sinistra che purtroppo poi termina con una parata di audero voglio aprire una piccola parentesi neres oggi è entrato al posto di quara e non al posto di politano a questa cosa aggiungo poi le parole di conte perché conte del post partita ha parlato di neres ha detto che neres in questo momento non gioca titolare per una questione di equilibrio ha dovuto fare un lavoro diciamo personale per tornare a livelli atletici e specialmente tattici importanti ha detto che al benfica non giocava tantissimo però il fatto è che lui entra al posto di quara mentre al posto di politano entra mazzocchi quindi a oggi quindi neres dobbiamo considerarlo più un cambio di quara non ti dà quell'equilibrio che ti dà politano e quindi lo mette al posto di quara che comunque nello schema di conte rimane un giocatore offensivo perché voi se vi vedete la fase non possesso quara rimane alto vicino a lukaku e si fa questo 5 3 2 neres probabilmente al momento è il cambio di quara dobbiamo aggiornare lo score di neres perché ieri ho fatto un tweet questa cosa mi sconvolge cioè david neres è proprio la definizione perfetta di super sub lui ha fatto finora una cosa come 130 140 minuti tra coppa e campionato ragazzi due gol e quattro assist in 140 minuti cioè questo ha giocato forse un sesto dei minuti di politano due gol e quattro assist e questo ci fa capire che comunque conte lo vede così cioè per conte neres è il giocatore che ti spacca la partita poi si sono d'accordo quando si dice che andrebbe messo un po prima perché non poi manco fa gli gioca 10 minuti 5 minuti magari una mezz'oretta al settantesimo al sessantesimo però secondo me a oggi per conte neres è il super sub che tu lo butti dentro al secondo tempo e ti cambia la partita poi per ragazzi per gli altri per mazzocchi spinazzola simione gilmour do a tutti e quattro un senza voto perché hanno oggettivamente giocato pochissimo e hanno fatto pochissimi tocchi quindi non posso dargli un voto a questi quattro e poi vabbè conte sette e mezzo sette e mezzo perché rimedia alle cose negative che si sono viste nel primo tempo cambi come sempre decisivi perché butta dentro neres l'unica cosa anzi due sono le cose che non mi sono piaciute della partita vabbè i cambi tardivi non so perché conte è come se avesse un po di paura a fare i cambi certo comunque c'hai gilmour che nel pre partita ha detto che ti dà molta difficoltà perché bravo perché forte cioè questo neres che che è fortissimo però li butti dentro gli ultimi dieci minuti gilmour è entrato al 90 al 90 al novantesimo secondo me qualche minuto in più potrebbero giocare questi ragazzi non so perché fa questi cambi così tardivi e poi l'altra cosa che non mi è piaciuta è quando ha parlato del rigore su quara perché lui a un certo punto dice va bene così e poi dice dobbiamo essere più forti di tutte le situazioni e qui ritorna quello che diceva spalletti cioè il napoli per vincere deve deve essere più forte di tutti quanti deve annientarli gli avversari non deve dargli proprio la possibilità manco di sperare non è piaciuto quando ha detto va bene così no no mister non va bene non va bene sulle situazioni oggettive non va bene sul rigore di quara secondo me l'allenatore deve farsi sentire deve farsi rispettare perché ragazzi dai noi non veniamo rispettati dagli arbitri non veniamo rispettati ve lo ripeto nelle ultime due partite con come in monza c'erano tre rigori ne è stato dato solo uno e non va bene ti devi far sentire lì secondo me questa è una cosa che non mi è piaciuta onestamente però nel complesso ragazzi 7 e mezzo perché la partita l'ha svoltata nel secondo tempo e quindi ragazzi queste sono state le mie pagelle di napoli como vi aspetto nei commenti sono curioso di vedere le vostre pagelle un po le vostre considerazioni sulla partita lasciate il like mi raccomando se il video vi è piaciuto iscrivetevi che è totalmente gratis e attivate poi la campanella mi raccomando detto questo adesso siamo in pausa nazionali evviva che bello se ci saranno argomenti interessanti da trattare io sarò qui e vi caricherò il video altrimenti ci vediamo quando sarà ecco sicuramente ci rivediamo alla fine della pausa nazionale detto questo forza napoli sempre io vi auguro un buon sabato e vi auguro anche una buona domenica e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao